Un mondo senza ingiustizie, dove ogni persona e comunità povera ed esclusa possa godere pienamente dei propri diritti tramite l'analisi delle relazioni e rafforzamento del potere. E questa la visione di Action Aid, che ha l'obiettivo di aiutare la popolazione in difficoltà. Ed anche in occasione della giornata mondiale dell'alimentazione, il gruppo locale dell'associazione presieduta da Stefano Surcinelli ha organizzato per venerdì 16 ottobre una cena alla mensa di San Paterniano. Domani abbiamo organizzato come Action Aid Fano una cena solidale alla mensa di San Paterniano a Fano in occasione della giornata mondiale dell'alimentazione e l'obiettivo è quello di raccogliere fondi per la mensa e ovviamente invitando anche i personaggi fanesi molto conosciuti e si spera di potersi anche divertire in leggerezza e in allegria grazie al dialetto fanese e suoi interpreti magnifici. Ad Aletare la serata infatti saranno gli sketch in vernacolo fanese ad opera di Filippo Tranquilli, Stefano Facchini e Lorenzo Alessandrini accompagnati alla fisarmonica da Giovanni Oliva, detto Vanni. Durante la cena inoltre il poeta Elvio Grilli premiato di recente dal sindaco Seri quale ambasciatore del dialetto fanese in ambito nazionale e internazionale leggerà alcune delle sue poesie ormai famose in tutta Italia. Questa iniziativa rientra nell'ambito di una campagna nazionale portata avanti sempre dall'associazione impegnata nella notta contro la fame nel mondo, la povertà e l'esclusione sociale. Noi a livello locale molto spesso facciamo la casa di risonanza alle campagne lanciate da Accioni d'Italia quindi sostanzialmente l'ultima campagna che Accioni d'Italia ha lanciato è Cibo per Tutti con lo scopo di raccogliere fondi da destinare a progetti specifici in India e in Etiopia e tutti possono partecipare a questa campagna Cibo per Tutti inviando un sms al 45599 e la campagna scade il 18 ottobre quindi avevo diciamo piacere di comunicarlo il prima possibile all'accidenza fanese così chi volesse in qualche modo aderire questa campagna ActionAid può ancora farlo e quindi ancora in tempo.